Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi Oggi faccio un Get Ready With Me un po' diverso dal solito Di solito mi truccavo abbastanza, anche molto più del normale, del mio normale Oggi invece voglio creare il trucco che avevo nel Makeup Roleplay Tutti, tutti, tutti mi avete chiesto che eyeliner usato, che rossetto esatto, che cos'è tutto Quindi ho detto vabbè, lo ricreo così facciamo prima E oggi ho una faccia A volte mi guarderò qui e a volte guarderò qui sotto perché ho lo specchio Spero non vi dia particolarmente fastidio Però così E oggi non so perché ho questo russone A caso mi avrò appunto qualcosa E qui c'è una crosticina E non metterò a fondo niente Mi metterò un po' di correttura Insomma è una cosa molto semplice Però appunto voglio usare dei prodottini che a quanto pare mi sono piaciuti Ok Prima di cominciare io faccio due cose Questa è la mia pochettina per i trucchi Di qualcosa di E.R. Non so se l'ho fatto vedere Ha uno shop suezzi bellissimo E vanno passati Il primo è quello di mettere il burro a cacao Anche se un pochino ce lo so Il secondo è quello di mettermi il Contro macchi Lo sono già messo stamattina Le metto giusto un altro Pochettino Questo perché andrò metto il correttore Che tende un pochino a seccarsi In su di me Quindi voglio Essere sicura che è stato bene La zona Come vedete ho provato anche a mettere Le lucine dietro Le lucine hanno la base trasparente Quindi si vedono un po' le linee Cosa che non mi fa impazzire Fanno bene su sfondo chiaro Su sfondo scuro A me ne ho lezioni imparate Però le tengo insomma Ok Quindi andiamo subito con il correttore Prima di metto la fascia Se vedrete Questa Macchia rossa qui E' un cerotto Con la sua Mi sono fatto male Con il correttore Io uso questo Io uso questo Della Makeup Revolution Come correttore Mi piace Però non penso Lo ricomperò Perché è un odore terribile Proprio della serie E sono fatto con Inghia di indigibili Però mi ci trovo bene E' abbastanza Medio coverage Non penso sia full Ma meno Non come lo metto io E comincio Ok Però non mi sto guardando Proprio solo Nella videocamera Quindi sì Perdonatemi Se non mi sto guardando Non so Quando voi vi truccate E parlate con una persona Non so se guardiate la persona Guardiate Cosa state facendo Quindi Cioè come vedete A me non copre così tanto Poi sicuramente Non c'è anche fondotini In realtà magari Ne potrei mettere anche Un po' di più Ma non sono interessata Nell'effetto Insomma La maschera Oggi Poi Durante l'estate Mie anche mia Proprio Ok Un bel puntino qui E un bel puntino qui Cioè qui Cioè qui copra abbastanza bene Il problema delle mie occhiaie Che sono anche sono affondate non so come dire hanno proprio uno spessore sono incavate adesso fisso giusto giusto con un velo velissimo praticamente zero cipria ma ripeto pochissimo questo pennello sono tutti i pennelli sporchi non praticamente niente anche perchè col poco che ho messo poi ho idratato su questo prodottino al tapping mi piace veramente se lo faccio super vicino alla confezione cominciamo dagli occhi negli occhi in quel trucco ho messo un po' di matita nera all'interno come faccio sempre per dare un po' anche simile volume e altezza alle cilie per dare un po' di rinfinizione all'occhio io uso questa della B2 B2 questa qui oh sì che sì che sono belli pallini e vado mettendo appunto su questa rima qui e vedrete insomma che mi chiedo devo guardarmi allo specchio cerco di andare a non anche coperta ma è un bello spettacolo cerco anche di andare verso le ciglia vedete già vedete già la differenza non so se sentite il congelatore che si è attivato non dà fastidio l'altro e vado anche dall'altra parte uno però se non lo fanno direttamente proprio così ad occhi chiusi non ce la faccio ok vedete già la differenza comunque sembra che io abbia molto più ciglia ok in questo punto l'unica cosa che avevo fatto agli occhi era definire proprio un secondo la palpebra mobile con una terra e uso sempre le portraits che io amo ragazzi inutile visto che sono abbastanza scure questa e dovrei usare quella dopo usatella un po' più scura qui che sarò anche dopo per i conturi e vado insomma non è un tutorial comunque semplicemente qui dove c'è è un po' troppo caldo adesso la mischierò con l'altra la mischierò con questa che è molto chiara non si veda troppo semplicemente qui sentite per dare una proprio leggerissima profondità e attaccare un effetto che voglio che si veda se si vede poco promossa la profondità all'occhio mi piace mi schiacciare vedere e vado anche da un'altra parte è un procedimento che faccio spesso perché mi piace che non si veda il trucco che faccio perché si veda che non si veda che sono truccata perché abbiamo molti più trucchi di quanto sembri un effetto un make up un make up ok un pochino anche da questa parte ancora ecco qua per ora la mettiamo via adesso vado a usare uno dei punti forti del make up che è questo eyeliner qui è il Melted Chrome eyeliner dell'Essence che è questo qui color oro rosa bronzo un misto bellissimo è il numero uno cap of love quindi si rame ed è stupendo lo adoro peccato per il pennellino che vedete non è della più alta qualità della più parte costa poco non si può pretendere chissà che cosa vedete abbastanza di faccia così comincia a partire e anche questo lo faccio guardandomi sotto capirete già non sono amante degli eyeliner che io non li so mettere poi gli eyeliner in sé ok e lo metto appunto su tutti ok massima concentrazione un occhio un occhio fatta vedete e vi consiglio di non fare come me e di non andare vicino perché è un po' brucia non è altissima qualità fa una bella resa ma insomma non è da usare sempre ok è l'altra parte però guardate che bella l'aggetto ecco vedete non lo sono andate molto sbagliato perché ho considerato più spesso di queste adesso devo espessire anche il secondo non vi preoccupate per la manica che ho qui questo grattone basta non è nulla ok ultimo step degli occhi il mascara e voglio provare questo nuovo di L'Urmify l'Angel Touch di D.L.I.K. D.L.I.K. e non ho ancora provato mi è arrivato da un po' e ringrazio anche Miriam per aver domandato di che me suona perdonatemi davvero per il casino che c'è fuori ma non posso tanto ravitarlo mi dispiace tantissimo ok e lo mettiamo è la prima volta che lo provo non dovrebbe essere effetto super wow perché la sua proprietà è che è pesato per essere anche un trattamento perché ha in dentro l'anel di origine molto che è noto per far far bene insomma non so anche in modo esattamente ma far bene alle ciglia a lungo andare ok ci vediamo dopo e la metto solo sopra mi è andato tipo qualcosa nell'occhio vedete si sta arrossando non è il massimo truccarsi in questa posizione passiamo alla base adesso vi mostro il mio trucchetto fantastico perché con tu ringra la mia tecnica da professionista ben colleghita proviamo solo questo però forse è un po' chiaro e vado e vado letteralmente a crearmi una rica e poi con il pennello con il vostro si passa in crema fondamentalmente questo è un pennello vitto abbastanza duro porto un po' il sugo un po' dico fondamentalmente si può fare solo con polveri molto sfumabili come questo riconalto e vi rimane la macchia per sempre potete sfumare quando volete ma no fate una cosa dall'altra parte è di questo fantastico contouring il mio segreto è perché sembra più magra a parere tutto secondo me non è fatto malissimo è un po' forte anche se vi assicuro si fa toluse i colori più scuri però alla fine da davanti ha un effetto pazzesco adesso blush illuminante e poi rossetto come blush ho sempre questo fra l'altro Artemisia io lo adoro è un blush bellissimo a proposito ditemi sotto nei commenti se fareste un video praticamente dedicato al tone clicking con tantissimo tone clicking e questo questo schiacco della lingua qui ecco una bella piazzata di rosa io adoro il blush se dovessi scegliere due prodotti direi matita e blush mi sto mettendo poco e poi andate a una base ok ok naturo ok passiamo all'illuminante e un altro prodotto di Cosmify ragazzi non so cosa dire mi piantano e quindi ed è il mio pesce che mi piace che mi chiede sempre cosa ho addosso questo è il colore IPE che è poi in produzione però in generale questo illuminante adoro anche come un pretto stupendo dentro è così c'è un migliato di prodotto ma guardate tutto andate all'attività ora ne ho la metà guardate qui un giro io l'odore e su di me non fa macchia perché è proprio il mio colore ora sono in bell'uso come come un pretto adoro e per le labbra uso lui lui è la mini size quella che costa 8 euro di Velvet Teddy che colore stupendo quella volta l'ho usato sopra il muro a cacao quindi mi noto quell'effetto un sacco anche voluminoso bellissimo almeno a me in realtà non piace particolarmente ma vuoi più usare mi piaceva al momento mi sentivo quasi qualche in realtà vuoi piace veramente tanto ok allora già questo rossetto è morbido di suo se le labbra noi diciamo che è semi matte però con sotto il burro cacao diventa super cremoso e ovviamente col burro cacao si perde un po' il colore quindi bisogna fare più strati e infine avevo messo un filo un filo non così tanto dunque vabbè un filo di illuminante sul largo di cupido così sempre quello di prima quindi ancora mi tolgo la fascia anche se i miei capelli sono comunque dedibili vabbè se sono giù un filo un filo un filo un filo e niente penso sia giunta l'ora di abbassare le luci e augurarvi 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 una buona 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 buonanotte e spero davvero che questo video vi sia piaciuto sono abbastanza disfatta con il look che alla fine è un sacco estivo sembra anche molto meno abbranzata in video è stata molto accurissima prende standard e tutto il luminoso sta molto bene con il mio olore di bello attuale e spero anche ti avrebbe soddisfatto di dirvi cosa ho usato spero di esservi stata utile buonanotte 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 pasticci bacione rispere buonanotte buonanotte buonanotte